A dieci anni dallo scoppio della grande crisi economica mondiale, la Toscana si conferma insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, una delle regioni italiane che hanno retto meglio al colpo, con una crescita che si protrae ininterrottamente da quattro anni, lenta ma destinata a continuare nel prossimo triennio. Lo spiega il rapporto sulla situazione economica e il mercato del lavoro in Toscana nel 2017 realizzato da IRPET, Istituto Regionale di Programmazione Economica Toscana, illustrato in Palazzo Bastoggi a Firenze alla presenza di esperti e vertici istituzionali regionali. A correre di più sono la Toscana Centrale e Meridionale a fronte delle aree interne e della costa dove si trovano anche le aree di crisi di Livorno, Piombino e Massacarrara che hanno sofferto la deindustrializzazione. In Toscana c'è stato un dinamismo straordinario nella Toscana Centrale, dentro la crisi, per una zona che va da Arezzo fino alle soglie di Pisa. È stato un dinamismo legato alla presenza delle piccole imprese, di multinazionali che hanno investito, legandosi spesso ad un apparato di piccole imprese e qui la crescita è stata forte. Poi abbiamo una costa su cui dobbiamo costruire infrastrutture, le infrastrutture dei porti. Per fare questo ci vuole tempo, ma cominciamo a vedere gli effetti già a Piombino. Il Piombino Gindal sarà lì grazie al porto che ha fatto la regione e altre imprese stanno chiedendo di insediarsi. E poi Livorno, secondo me, deve scrollarsi di dosso un certo minimalismo e puntare a competere con Genova e con la Spezia. La Toscana, insomma, ha reagito anche se il conto presentato dalla crisi resta comunque molto pesante, soprattutto in termini di disoccupazione, scarsi investimenti e povertà. Nel 2017 la crescita del PIL in Toscana è stata dell'1,2%, trainata dai consumi interni e dagli investimenti, e la ripresa ha riguardato quasi tutti i settori, con una crescita di addetti del 2,6% nell'agricoltura, del 2,9% nell'industria, del 2,5% nei servizi. Più lento il settore delle costruzioni. È abbastanza generalizzata, nel senso che ha riguardato un po' tutti i settori produttivi, dal manifatturiero al terziario. Sono poche le eccezioni in cui l'occupazione non cresce, le banche che sono in via di ristrutturazione, quindi stanno riducendo il personale, la pubblica amministrazione perché non può assumere, quindi le persone vanno in pensione e si riduce il personale. Ma in generale è una ripresa abbastanza in stessa in tutti i campi. Ampio spazio nel rapporto IRPET presentato a Firenze e offerto al mercato del lavoro, che rispetto al 2016 ha visto crescere del 2,6% gli addetti, con il conseguente calo di persone che si sono rivolte ai centri per l'impiego, meno 9,3%, e delle ore di cassa integrazione, meno 31,3%. Gli occupati sono saliti di 16.537 unità. Ancora poco però è il lavoro a tempo indeterminato. A farla da padrone sono i contratti a termine, molti nel turismo, e quelli a chiamata che hanno colmato la sparizione dei voucher. L'aspetto meno positivo di questo andamento dell'occupazione è il fatto che aumentano le forme meno stabili di occupazione, a tempo determinato, il lavoro somministrato, le forme di lavoro un pochino più stagionali e quindi, se vogliamo, più precarie. Questo ha fatto sì che in alcune aree, il sud della Toscana, ad esempio, in cui c'è molto turismo, molta agricoltura, l'occupazione si è cresciuta anche in modo significativo, ma si è cresciuta soprattutto per queste caratteristiche. La Toscana è poi particolarmente solida nella sua parte centrale, cioè si mette ancora in evidenza che esiste una discrepanza fra la Toscana centrale, che sta con le aree più sviluppate dell'Italia del nord e il resto della Toscana, che vive ancora momenti certamente di debolezza. E anche sul versante disoccupazione c'è ancora molto da fare. Se sono ancora 90.000 i disoccupati toscani in più rispetto al 2008, hanno sparte acque prima della crisi. Tra chi non ha lavoro, chi lo cerca ma non in modo attivo e chi non lo cerca, il numero totale tocca le 266.000 persone. Circa 190.000 toscani hanno poi spiegato ai ricercatori, sono sottooccupati, cioè lavorano un numero di ore inferiore rispetto a quelle desiderate e resta alta la quota dei NIT. I giovani che non studiano ne cercano lavoro. Il tasso di disoccupazione sta rientrando e nei prossimi anni continuerà a diminuire. Il problema sostanziale qual è? È che lo farà con lentezza e questo mina alla base un po' quella crescita che abbiamo descritto essere un po' la caratteristica dei prossimi anni, perché sarà una crescita che rischia di non essere inclusiva di tutte le parti della società. Quindi in qualche modo si pone un po' l'accento sulla difficile sostenibilità sociale di questa situazione. E il futuro? Per il prossimo triennio la Toscana continuerà a crescere, anche se in modo lento ha un tasso previsto intorno all'1% del PIL regionale, grazie anche al consolidamento del ritmo di crescita degli scambi internazionali. Sul lungo periodo però pesano le incertezze di una crescita globale che tende al rallentamento, ma anche delle guerre commerciali all'orizzonte tra i principali paesi. Si conferma purtroppo il fatto che la crescita è lenta, cioè è come se la nostra economia toscana, ed è meglio di quella nazionale, quindi resta il fatto di un andamento migliore, ma si conferma il fatto che le nostre potenzialità di crescita sono lente e quindi noi difficilmente cresceremo più del 1%. Questo per le nostre caratteristiche strutturali, ma anche per il fatto che il commercio mondiale, in vista di queste guerre che si stanno aprendo, poi naturalmente le conseguenze ancora non siamo in grado di stabilire, ma certamente rallenterà la crescita del commercio mondiale e noi essendo molto aperti sul commercio internazionale evidentemente ne soffriremo. E poi ci sono alcuni fatti legati alla finanza, alla draghi, la cessazione della quantità di easing, quindi lì il rischio è che ci sia un freno anche nelle possibilità della finanza pubblica, gli interessi aumentano, quindi il timore è che la crescita potenziale è lenta, dicevo, intorno al 1%. Se questi avvenimenti piombano sul nostro sistema potrebbe peggiorare il quadro di crescita. Quindi il futuro è un futuro che ancora per un anno o due anni dovrà mantenersi su questi livelli, quindi tutto sommato accettabile. Il rischio di un peggioramento è alle porte. Ma nel rapporto presentato a Firenze l'IRPET segnala anche che in Toscana ci sono comparti che per ora queste tensioni sui mercati hanno saputo reagire, come nel caso del made in Italy, pelletteria, tessile e abbigliamento. In questo momento i comparti che hanno reagito molto bene sono quelli della moda. La moda ancora continua a avere una capacità di treno notevole. Noi produciamo prodotti di altra qualità e quelli sono ancora appetibili nel mondo. Ecco, probabilmente la parte della meccanica, alcune parti della meccanica, pensiamo al calo del prezzo del petrolio, il fatto che si estragga meno petrolio, ha delle conseguenze su chi produce una serie di prodotti che vanno a quella direzione. Quindi in quel caso ci possono essere, già ora vediamo alcune cali nelle esportazioni di questi prodotti che fanno pensare che lì ci sia un problema. Per il resto ritengo che la caduta sia semplicemente quella indiretta, cioè il commercio mondiale ne risentirà, la crescita mondiale sarà in rallentamento e come conseguenza anche la domanda di beni di consumo rallenterà. La ricetta per la crescita, quella classica degli investimenti che secondo i ricercatori di Irpet restano l'unica via per accrescere la produttività, rafforzare la capacità di esportare e sostituire le importazioni nei comparti in cui la dipendenza dall'estero incide in modo pesante sulla bilancia commerciale, non solo toscana ma anche italiana. Il punto fondamentale evidente è quello di rilanciare gli investimenti per dare alito e sostegno alla ripresa. È ovvio che tutto questo sta dentro un quadro di compatibilità finanziaria che non è facile da rispettare.